Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPBILI, dove per lavori tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna si segnalano 3 km di coda in direzione Firenze e 1 km di coda in direzione Livorno, spostandoci in A1 in direzione Bologna a rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sulla strada regionale 2 via Cassia, senso unico alternato per lavori tra i km 268 e 500 e 269 e 900 circa nel comune di Barberino Tavarnelle fino al 31 marzo. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!